oh buongiorno a tutti buongiorno a tutti per un nuovo video direttamente da tenerife per commentarvi quella partita di ieri vorrei dire quella partita di merda di ieri ma sinceramente shavnish stu ferrar riesco a farvi sto cazzo di video stu capucchio di gom di video allora ragazzi un inter che ieri inter napoli innanzitutto commentiamo inter napoli e innanzitutto iscrivetevi al canale da questa magnifica cornice che è tenerife ragazzi iscrivetevi al canale dario ferrante perché marua mail se no hanno fatto un video di un cappuccino di gamba avete capito o allora ragazzi parliamo parleremo adesso dalla partita di ieri inter napoli ragazzi che ho visto tutto ho visto tutta la partita dall'inizio alla fine giometri a verticali e pronostici da rispettare sbarramenti frontali ma che voglia di farli saltare ma che voglia di farli saltare gol gol imprevedibile gol gioco ma i voli non inglese una partita che ci ha visti in cominciare bene nei primi sette minuti poi ci ha visto soccombere davanti alla tecnica dei giocatori napoletani e davanti al palleggio dei giocatori napoletani, ci siamo veramente strofinati gli occhi a vedere questi giocatori che sembravano dei marziani a livello dei nostri giocatori, questo c'è da dire, parlo di scambi ravvicinati l'1-2, cercavano sempre continuamente nel primo tempo inserimenti, triangolazioni tra di loro, noi siamo stati bravi a tenerli lontani un po' dalla seconda parte del primo tempo e dal secondo tempo, siamo stati bravi a tenerli un po' lontani tra loro perché più vicini stanno, più pericolosi sono, un Napoli che a dire la verità nel primo tempo non ha tirato per niente in porta, ha cercato di fare manovre abbastanza conosciute e abbastanza prevedibili, fortunatamente per noi, non riuscivano a fare i napoletani l'ultimo passaggio, tra l'altro c'è da dire che l'unico tiro in porta nel primo tempo è stato di Candreva con un sinistro poi tra l'altro neanche tanto male, niente, il primo tempo ragazzi, fatto, giocato nell'opacità o l'opacicità come si direbbe, siamo stati opachi veramente, siamo stati opachi, ma se dovevamo contenere però siamo stati bravi, però da grande squadra siamo stati opachi, come contenimento non siamo stati male, però ragazzi io sono interista e come tanti voi interisti vogliamo vedere un Inter che giochi a calcio, nel secondo tempo abbiamo visto un Inter diversa, abbiamo visto un Inter che è entrata in campo un po' approfittando della stanchezza dei napoletani che hanno corso veramente per almeno 40 minuti nel primo tempo, il lungo e il largo davanti e dietro veramente questo c'è da dire e nel secondo tempo abbiamo approfittato come dicevo della stanchezza dei giocatori napoletani cercando di avere noi il pallino del gioco e cercando di creare noi la manovra. Quello che dice Spalletti è vero, è verissimo, quello che ha detto Spalletti nell'intervista post partita è una cosa vera e ragazzi, adesso voglio dire a tutti quanti, è una cosa vera e che ci fa male ma purtroppo è la pura e cruda verità e la cruda realtà non c'è tanta qualità nei nostri giocatori e questa volta per la prima volta il nostro Spalletti lo ammette. Ragazzi ripeto che non concordo con non concordo, ragazzi ripeto che non concordo le decisioni di Spalletti ieri sera di non mettere Borca Valero dal primo tempo però se dovevamo fare questa partita di mantenimento va bene però contro il Napoli un grande centrocampo dove ammettere Brozovic e Gagliardini a centrocampo che cazzo vuoi fare? Mando cazzo a Vucì, abbiamo avuto un centrocampo di un cappuccione di gomma, ragazzi il centrocampo era a capoccia propria, era a cappuccione di gomma e manca e manca da mezzo da truciolato, se no era bello tutto il centrocampo, no era da cappuccione di gomma, quello c'è da dire. Gagliardini, Brozovic contro il Napoli, centrali di centrocampo non si possono ne vedere e ne veramente soffrire perché soffriamo noi solo a vederli nella formazione titolare, veramente, puoi mai mettere questi due contro il Napoli ma avete scomento veramente, due centrali come questi ma siamo fuori veramente di testa, perché ne hai messo Borca Valero? Ma ti ha imbazzuto prima i spalletti, perché adesso poi mi ricordo di queste storie qua, vabbè comunque commentiamo sta cazzo di partita, il secondo tempo, il secondo tempo, a faccia di un cappuccione di gomma, il secondo tempo abbiamo cercato di avere il pallino del gioco, noi in mano. Che succede? E che è successo? È successo che, qui viene la lamentela di Spalletti, è successo che un Inter che è stata ben messa in campo, un Inter che nel secondo tempo si è comportata bene, poi da quando è entrato Borca Valero, magari non lo so perché non aveva tanti minuti nelle gambe, ci aveva affaticamento, da quando è entrato Borca Valero con Cancelo, ripeto ragazzi, Cancelo il migliore in campo da noi, dalla nostra parte interisti, Cancelo e Skriniar migliori in campo, qui se da adesso lo confermo, lo scrivo, Cancelo è il giocatore che ci voleva all'Inter e meno male, però ragazzi comincio a lamentarsi giustamente perché l'Inter non compra fenomeni, non compra grandi giocatori e quindi andovaci sto giocatore se resta con noi, da nessuna parte, se ne deve andare da una squadra competitiva che ha grandi progetti, cosa che noi non possiamo avere per almeno i prossimi due anni se non sbaglio, perché il prossimo anno siamo ancora falciliati dal fair play finanziario ragazzi, da questo cappuccino di gommo di fair play finanziario ragazzi, noi poi ricordo che abbiamo fatto dei progetti veramente proprio a perdere, poi prendendo tutti questi ragazzi, ragazzini eccetera, invece di prendere un mostro, un grande giocatore che magari aiuta anche le giovanili a crescere, niente, che puoi mettere con lui i giovani intorno e crescere con lui? No, noi non abbiamo fatto così, abbiamo preso dei giocatori piccoli, dei giocatorini e continuiamo con questa storia qua, aspettiamo le plusvalenze, aspettiamo che crescano per poi venderli, quindi non siamo più un club di arrivo, una società dove tutti i giocatori arrivano e vogliono finire la carriera lì, no, siamo un club di passaggio e quindi come ripeto l'altra volta l'ho detto un via vai, siamo un via vai di gente. In questo secondo tempo dove noi abbiamo giocato eccetera, abbiamo cercato di avere il pallino del gioco, abbiamo sbagliato delle cose elementari che i grandi giocatori non sbagliano e per questo Spalletti si è incazzato ed è incazzato nero, giustamente adesso ce l'ha, sottolinea anche per il fatto di Cardi, il perché i Cardi ieri non ha toccato palla, perché i Cardi ha bisogno, è un finalizzatore, non è un giocatore che si fa due, tre dribbling e si porta la palla davanti, eccetera, si va a prendere la palla a centrocampo, è un giocatore che necessita una manovra dietro di lui, necessita una squadra che giochi, non dico per lui, ma che almeno gli porti la palla davanti alla porta, almeno quelle 4-5 volte in più del normale, che sono 2-3 volte ragazzi, perché ieri i Cardi ha toccato la palla due volte se non sbaglio e quindi niente, quello che dice Spalletti è giustissimo, però io adesso poi tra l'altro, parentesi, vorrei dire a Spalletti, vi ricordate quando quel tifoso, uno di noi che andò agli allenamenti dell'Inter quando abbiamo cominciato la stagione e disse Ranocchia vattene, Ranocchia te ne devi andare, Spalletti lasciò l'allenamento dei ragazzi, si avvicinò ai cancelli lì dove c'erano sulle grade, sulle gradinate dove c'erano i tifosi dell'Inter, c'era quel tifoso che disse Ranocchia vattene e disse sottolineando che Ranocchia era un grande giocatore, un bravo giocatore, disse guarda lasciaci lavorare, sei tu che te ne devi andare, tutti quanti hanno applaudito eccetera eccetera, ma adesso Spalletti è tornato sui passi di quel tifoso che diceva Ranocchia te ne devi andare, adesso Spalletti che fai? Non dici ai tifosi, siete voi che dovete andarvene? Spalletti che fai adesso? Non lo dici? No perché è facile parlare poi col senno di poi, noi invece te l'abbiamo detto all'inizio, mentre tu facevi il cagone che andavi lì alle interviste e dicevi tu Spalletti dicevi no ma noi abbiamo una squadra competitiva, si può fare eccetera eccetera, mentre all'inizio campionato gli altri passeggiavano, cercavano di trovare un gioco, era inizio campionato, erano in rodaggio molte società, noi abbiamo fatto una bella preparazione giustamente che è quella che ci mancava l'anno scorso, ragazzi non è che Spalletti ha fatto quella grande differenza, lo ripeto, l'anno scorso non avevamo la preparazione, quindi è stata una di quelle stagioni dove secondo me dovevamo pure vergognarci, ma era per colpa di Mancini, ricordiamo sta cosa all'inizio dell'anno prima eccetera eccetera, comunque quest'anno avevamo la preparazione e anche grazie a Spalletti diciamo qualcosa abbiamo fatto, però Spalletti non è che ha fatto quella grande differenza, perché arrivare all'Inter e vedere una squadra di brocchi, perché così volessi chiamata, è dire no noi siamo competitivi, noi siamo forti, noi così, noi colà, ma sai che è sbagliata proprio, è una cosa errata, è un errore che non si deve più fare, perché se no Sunning si culla e non ti compra più un cappuccione di gomma, se adesso ti ha comprato i giocatori del cappuccione di gomma, prima e dopo ti comprano quelli del cappuccione di piuma, di gomma piuma, hai capito? Il cappuccione di gomma piuma, che è peggio del cappuccione di gomma, allora ragazzi, quello che dico io, quello che dico, vengo e mi spiego, come disse il grande Totò, il grande Antonio De Curtis, allora, Spalletti, Spalletti, o cominci a fare bordello, andare alla società e dire ragazzi a me non mi piace questo progetto, vogliamo i giocatori nuovi e vogliamo giocatori seri, o se no qua è meglio che te ne vai Spalletti, perché non ci fai nessuna differenza, poi come ultima cosa, che stiamo parlando della partita di ieri poi, devo aggiungerla perché ragazzi poi, la mitica tattica di merda, il 4-3, no com'era, il 4-2-3-1, ragazzi, una tattica del cappuccione di gomma, 4-2-3-1, mettitelo nel culo caro Spalletti, perché Icardi con le sue doti fisiche, con quello che ha, i centimetri che gli mancano e tutto coso, Icardi non può stare da solo davanti alla difesa avversaria, in mezzo a due, a tre, addirittura c'erano i quattro difensori in certe occasioni e Icardi era solo lì con la palla, ma che cazzo ti credi che Icardi deve fermare la palla, aspettare che sale la squadra? Ma che giocata è questa? Ma neanche se abbiamo un grande centravanti di stazza fisica, sarebbe un bel gioco fare il lancio lungo, arrivare a lui, ferma la palla e la squadra, ma che cazzo di gioco è questo? Il 4-2-3-1, a me tu 4-4-2, quando ha messo il 4-4-2, quando ha messo i due attaccanti, ha messo Icardi con Icardi, anche se Icardi era sotto tono, c'è da dire, perché non riesce a stoppare la palla, quando ha messo i due attaccanti insieme, allora c'è stato più movimento davanti, allora il Napoli ha avuto più difficoltà perché ha dovuto arretrare il suo baricentro perché se no aveva più problemi davanti alla loro porta, perché aveva più attaccanti nella zona centrale, centrale. Allora ragazzi, con questo io vi chiudo, vi lascio ragazzi, e vi saluto con questa meravigliosa cornice che è Tenerife ragazzi, e da questo vi dico, a questo posto vi dico, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi in massa e Carrara pure, e ragazzi, mettete un like, porca da una miseria, puttana, sciacchezze, veramente, poi dici che non dobbiamo protestare, sciacchia, maneglio un cappuccino di gomma, forza Inter sempre ragazzi, e speriamo che Dio, veramente, questa volta c'è da dire, che Dio ce la mandi? Buona, perché siamo messi veramente male, parlo a livello societario, ragazzi, ok? Tra i blocchi di nancino, il fair play finanziario, ma sai che ci aspettano un altro anno o due di transizione, io mi è stancato la transazione, noi siamo l'Inter ma fa la transazione, ma veramente, che cambia il presidente per favore, perché anche per legge, quando c'è un presidente nuovo, come ha fatto il Milan, puoi spendere due, trecento milioni, eccetera, eccetera, puoi fare un nuovo progetto. Ragazzi, vi saluto, se non vi siete iscritti al canale, fatelo adesso, mettete un like per favore, condividetelo con gli amici, così possono anche giudicarmi, ragazzi, vi saluto, evviva, ragazzi, la patata sempre, forza Inter da Tenerife.